Un uomo vicino a toccare la felicità, sul punto di sposare la donna amata, e al quale tutto mancò in un istante. Un uomo in cerca di giustizia, contro un mondo che conoscerà il prezzo dell'invidia, del tradimento e dell'inganno. Giustizia! Tu sei qui, e respiri la stessa aria mia, tu sei qui. Perché, perché non punisci queste crudeltà? Una musica intensa e coinvolgente, e voci ad alto impatto emotivo vi trasporteranno nel capolavoro di Alessandro Dumas. Un uomo vicino a toccare la stessa aria mia, tu sei qui.